salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video anzi questo nuovo video adventure perché oggi ho portato il defender in una situazione ancora più estrema del solito tra poco vedete che percorso ha dovuto fare questo piccolo defender quindi adesso partiamo questo cinematic video cercherò di renderlo il più reale possibile quindi adesso saliamo a bordo del defender accendiamo e partiamo con il defender un'altra parte Grazie a tutti. 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 Ok ragazzi, questo video con il Defender è finito. Avete visto in che situazione estrema oggi il Defender ha dovuto districarsi. Ne è uscito ancora sano e salvo. Funziona ancora tutto benissimo. Però veramente lo sto portando al limite, anzi oltre al suo limite. Quindi ragazzi, se questo video con il Defender vi è piaciuto lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se vi va se non l'avete ancora fatto e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube. Ciao!